Buona giornata amici, oggi è giovedì 26 agosto 2021. È una bella giornata dopo il maltempo dei giorni scorsi, per cui è bello oggi iniziarlo con la rassegna stampa sui giornali del resto del Carlino e del Corriere Adriatico. Ma prima vediamo il santo del giorno e poi il meteo. Oggi è San Alessandro di Bergamo, un soldato della legione Tebea, era il vesillifero di questa legione. Un soldato dunque, un soldato che è stato santificato perché è stato martirizzato sotto l'imperatore Massimiano nel 303. Di lui si venerano le spoglie in altri comuni, di cui è patrono un po' sparsi in tutta Italia. Ed ora vediamo, vediamo le previsioni del tempo, vediamo che il sole viene con qualche nuvoletta, ma ormai il cielo è sereno, viene sparso un po' in tutta la regione. Una giornata dunque stabile e in prevalenza solleggiata, con i cieli sereni o poco nuvolosi. Massime in lieve aumento, valori entro i 27 e i 29 gradi. I venti sulle coste da medio di sud-este. Ed ora passiamo alla nostra rassegna stampa, a partire dalle prime pagine dei giornali. Vediamo la pagina di Pesaro, che riassume le notizie dell'interno sul resto del Carlino. Scuola, nessun sconto ai Novax. Si avvicina sempre più l'inizio dell'anno scolastico. Il direttore regionale Filisetti dice, rischia il licenziamento di chi non si vaccina. L'assessore Saltamartini, casi triplicati ad agosto, per quanto riguarda purtroppo i casi positivi. Settori giovanili, vediamo un po' come lo sport risponde alla questione sanitaria. Settori giovanili e caos, green pass, latini agli sportivi, i test e salivari. Ecco le casette che ospiteranno gli studenti del Marconi al campus di Pesaro. Vedremo poi perché. Mentre per quanto riguarda lo sport, la VL mette i muscoli. Arrivato Camara. C'è anche un caso che viene rilevato nella prima pagina del Carlino. Italservice contro Pizza Comune. Lavori a Campanara. La squadra è rimasta senza casa. Il presidente polemizza. Gli assessori replicano. E poi il maltempo. Il maltempo, vediamo. Il genica, scarica di tutto in spiaggia. Sempre così. È una vergogna. È la protesta dei concessionari. E poi un furto, per quanto riguarda la cronaca. Faccia a faccia con il ladro gentiluomo. Lui saluta e fugge con il bottino, però. Sulla prima pagina del Corriere Adriatico vediamo che si parla ugualmente di scuola. Tutti a scuola anche nei container. Il MIUR ha finanziato i progetti della provincia, volte alla ricerca di nuovi spazi per le superiori. Poi il Morselli, ancora un altro anno di attesa. Quando finirà sarà un istituto a consumo zero. Le tre notizie a centro pagina. Pesaro, CUP, disagi e ritardi per quanto riguarda le prenotazioni. È ancora frane sulle strade. Il Comune vuole chiedere i danni. E qui siamo soprattutto a Santa Maria dell'Arzilla. E infatti anche a Fano l'Arzilla sta creando problemi. La piena dell'Arzilla allaga il sottopasso della ferrovia nei pressi della foce. Schiume nel canale del porto. Autorità portuale per il Presidente. I candidati sono oltre 50. Poi ancora i profughi al Covid Hotel di Gabicce. Rimarranno sette giorni. L'assessore Aguzzi è in attesa delle direttive. Dei 20 afghani arrivati i bambini sono la metà. Ed ora vediamo le pagine interne del Corriere Adriatico. A partire dal primo piano di Pesaro. Scuole tra container e locali. Mezzo milione per trovare altri spazi. Il MIUR ha assegnato alla provincia 490 mila euro. Finanziando tutti i progetti. Per il bando corsa contro il tempo. Moduli prefabbricati al campus e al celli. Ma si tratta di un provvedimento che riguarda un po' tutte le scuole della provincia. Le scuole superiori. Per cui Cefano, Fossombrone, Pesaro. Insomma un finanziamento che viene parcellizzato nelle altre scuole. Le scuole superiori. Riceveranno dunque 490 mila euro. Nell'ambito di nuovi stanziamenti previsti per l'edilizia scolastica. In vista dell'avvio del nuovo anno 2021-2022. E sono rientrati in graduatoria i progetti per l'Ipsar Celli di Piobbico. Il liceo scientifico Marconi di Pesaro. Il liceo artistico Apolloni di Fano. Il classico Mammiani di Pesaro. L'istituto Donati di Fossombrone. E il Volta di Fano. Servizi educativi pressing per il protocollo di rientro. Il comune di Fano ha già firmato. Pesaro ancora no. E i sindacati premano. Sul rientro e la riorganizzazione in sicurezza dei servizi didattici comunali. Ovvero quelli per la scuola dell'infanzia, elementari e medie. Il comune di Fano sorpassa Pesaro. E stila e condivide con le parti sociali del pubblico impiego. Un proprio protocollo di rientro in sicurezza. Da settembre. Per insegnanti dei plessi comunali e servizi educativi in genere. Un articolo interessante che potrà dare particolari notizie a chi appunto si appresta ad affrontare il nuovo anno scolastico. E sono in scadenza a questo proposito, lo ricorda il Corriere, le domande per il trasporto scolastico. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, gli assessori al trasporto Mirko Calzolari e all'istruzione Barbara Torcolacci. Ricordano che la domanda per l'iscrizione al servizio di trasporto dell'anno scolastico dovrà essere presentata entro, e non oltre, la data del 31 agosto 2021. E veniamo ora alla situazione sanitaria. CUP, prenotare una visita, si trasforma in una odissea. Non è questione solo di oggi, lo è stato anche in passato. Sempre più numerose comunque oggi si evidenziano le segnalazioni che lamentano liste d'attesa lunghissime. Per i controlli specialistici o si aspetta sei mesi o si viene dirottato addirittura fuori provincia. E pensate quale disagio questo procura alle persone anziane, a chi non ha mezzi di trasporto propri, che deve appunto prenotare corriere, oppure mezzi pubblici, oppure addirittura treni. Sono segnalati diversi di questi casi al Centro Unico di prenotazione per la prenotazione appunto di alcune visite specialistiche, dove la possibilità di farle si lunga per sei mesi o si viene dirottati appunto in altre province. Liste di attesa che tornano a creare non pochi problemi, in particolare per alcune prestazioni specialistiche. In queste ore si rincorrano e fioccano le segnalazioni inoltrate al Centro di prenotazione, un problema ben noto ai medici che operano nei vari distretti sanitari. Insomma, ci sono problemi. La direzione dell'area vasta risponde alle segnalazioni portate a conoscenza, soprattutto da Giuseppe Cavallo, che è il segretario del circolo PD del quartiere Pantano di Pesaro, che è da assicurato che si attiverà prontamente per risolvere i disagi. Un'assicurazione un po' generica, che però cerca di mettere una toppa al buco che si è creato. Profughi nel Covid Hotel rimarranno sette giorni. Aspettiamo le direttive. Sono diversi profughi giunti dall'Afgano senza nulla, non hanno bagagli. Ci sono alcuni bambini tra loro. L'assessore regionale Aguzzi segue in particolar modo, con la sua attenzione, il gruppo dei venti rifugiati accolti a Gabice. Si sta organizzando, dice, l'ospitalità. Come Marche siamo in attesa di conoscere gli sviluppi anche dal governo. Quando sono fuggiti da Kabul non hanno portato, dice un trafiletto, nulla con sé. Ma c'è una vera e propria gara di solidarietà per i bimbi e i familiari nelle Marche, per queste persone che sono fuggite veramente da uno stato di oppressione che si preannuncia in quel paese tormentato. Pescheria rivoluzionata e high-tech. Il Comune punta sui fondi statali. In giunta, Via Libera ha un progetto esecutivo per oltre un milione, partecipando al bando del MIBACT. La pescheria di Pesaro è diventata, l'ex pescheria di Pesaro, è diventata un centro di arte, di mostre artistiche particolarmente importante. E il nuovo progetto riguarda il rinnovamento di tutti gli aspetti multimediali. La sala, il cablaggio, l'illuminazione, il clima, gli spazi modulabili, una riqualificazione completa degli allestimenti per creare un contenitore di eccellenza anche dal punto di vista multimediale. Ed ora diamo un'occhiata al maltempo, nubifraggio e smottamenti sulle strade, fossi non puliti, chiederemo i danni. Le frane hanno reso impraticabili le zone colinari, sia quelle che costeggiano la Valle del Metavolo che quelle che costeggiano la Valle del Foglia, il monito degli assessori Belloni e Morotti. E poi ancora, acque e rifiuti, le scelte strategiche competono alla politica, parla così il responsabile del circolo locale di Secus, che chiede un ruolo attivo della proprietà di Marche Multiservizi. Si tratta di Maurizio Franca, del gruppo Sostenibilità, Equità e Solidarietà e qui c'è anche il rendering del biodigestore di Talacchio in Valle Foglia, quel biodigestore che è sempre molto contestato da ambientalisti e da residenti. Vetrine attive, un progetto per i negozi senza attività. Il professore Bogliolo ad Urbino esorta l'uso di questi spazi per comunicare e riqualificare il centro. Ogni vetrina inutilizzata dovrebbe essere valorizzata. A Fano, per esempio, è stato installato un pannello in ogni vetrina chiusa per evidenziare le caratteristiche, i valori, le risorse della città stessa. Risorse artistiche, ambientali, risorse storiche. E così ad Urbino ogni vetrina dovrebbe essere una risorsa. Lo dice il docente dell'Università di Urbino, Alessandro Bogliolo, responsabile del Museo Vetrine Attiva. Una mancata opportunità di dialogo, dice, tra la città e chi la frequenta. Corso Garibaldi 66 è lo spazio dedicato alla sperimentazione di modi sempre nuovi per utilizzare le vetrine come strumento di riqualificazione urbana. E poi un articolo di fondo sulla pagina di Urbino ricorda il maltempo, bomba d'acqua, allagamenti a Canavaccio, mancata regimentazione, PD e Vivo Urbino lamentano i ritardi del sindaco. Sulla pagina di Fano, un altro terribile incidente si è verificato ieri dopo quello sulla statale adriatica nord tra Fano e Fosso Seiore, quella volta non ci furono effetti gravi, questa volta invece purtroppo c'è scappato il morto. Sbanda con l'auto, schianto fatale, terribile scontro dopo una curva. La vittima è Massimo Pastore, 48 anni, residente a Camminate, che percorreva la strada di casa. Superata una curva, non è riuscito a mantenere la sua corsia di marcia e si è scontrato contro un'altra auto condotta da Claudio Isabettini, di 63 anni, che è risultato per fortuna solo ferito, solo ferito in maniera non grave, ricoverato all'ospedale di Pesaro. Ieri ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul modo con cui si è svolto l'incidente e purtroppo però Massimo Pastore è deceduto. Piena limacciosa alla foce dell'Arzilla, in mare finite le acque nere di Fogna. Le testimonianze dopo il nubifraggio nell'entroterra. L'ingegnere Romei, che è il responsabile del settore all'interno di Aset, dice che però la vasca di prima pioggia ha funzionato e quindi ha trattenuto molta di quella acqua che sarebbe fluita in mare, ricca poi di problemi, di batteri, perché l'acqua di Lavante trasporta con sé molte iniquità. Con l'onda di piena del torrente Arzilla, è arrivata la foce ieri mattina dopo le abbondanti piogge della notte precedente. Si è allagato anche il piccolo sottopasso che costeggia il torrente, dove poi sopra passa la ferrovia. Non è un sottopasso, però viene usato così dalla gente che si riega in spiaggia e ieri ha dovuto così o tornare indietro perché l'arco era tutto allagato, oppure rimboccarsi i calzoni e passare a piedi nudi in mezzo all'acqua. E poi vediamo ancora sulla pagina della Val Metauro a Fossombrone, dove è in atto la campagna elettorale per le prossime elezioni. Sanità più servizi pubblici, senza altre cliniche private, il programma di Massimo Berloni, che però avverte regione e Stato, hanno le competenze principali. Insomma, il tema della sanità è un tema caldo, soprattutto a Fossombrone, dove ci sono le elezioni e dove è in ballo il futuro del locale ospedale. E poi abbiamo una bella iniziativa di una famiglia, di una famiglia privata, si tratta della famiglia Zampa, che ha realizzato un'edicola della Madonna lungo la strada di Cerbara di terre roveresche. È un segno di ringraziamento, in modo particolare, a Sant'Antonio di Padova per la guarigione del figlio negli anni Sessanta nel secolo scorso. L'edicola è stata rimessa a nuovo e ieri è stata così reinaugurata di nuovo, così tra la pietà dei fedeli. A Mondolfo, Ruzzola. Si parla di Ruzzola, uno sport tipico di questa località, uno sport che magari è caduto in disuso in altre città, ma che a Mondolfo viene tenuto molto vivo. Ruzzola, l'associazione di Mondolfo, conquista il titolo italiano a squadre. La formazione di Giancarlo Rossi si è affermata a Monte Roberto dopo 34 anni. E poi, ragazzi, provetti cavallerizzi. Due coppie a cavallo gareggiano per il tricolore a Pergola, Giulio e Noemi, e Vittoria e Natalia di Cagli impegnati a Trieste. Si tratta di due giovani pergolesi che volano alla finale italiana trecche tecniche di ricognizione equestre competitive. I migliori cavalieri italiani ed europei si contenderanno il podio nel weekend a Trieste. E il centro eippico, la Busciogola, rappresenterà le marche, facendo scendere in campo un poker di binomi composti dai pergolesi Giulio Rovaioli e Noemi Lancia, e dalle Cagliesi Vittoria Caselli e Natalia Vernaricci. Vi veniamo anche alla pagina di Senigallia. Da domani la fiera, finisce quella di Fano oggi, l'ultimo giorno, domani inizia la fiera di Senigallia. Anche qui l'accesso è libero, ma per gli acquisti servirà il Green Pass. Saranno effettuati controlli a campioni tra gli stand, previsto l'allestimento di 423 bancarelle. A Pesaro si sono riscontrati alcuni vuoti, vedremo che cosa accadrà a Senigallia. E veniamo ora sulla pagina del resto del Carlino, di cui abbiamo già letto la sintesi in prima pagina, e vediamo le dichiarazioni dei presidi in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Presidi e Green Pass, previsioni nere. Sarà il caos totale, indicano i dirigenti. Meglio l'obbligo. Bocciata anche la proposta della Regione, il tampone è un'ipocrisia ed è improponibile farlo ogni due giorni. Parlano in questo senso Riccardo Rossini, che è preside del Liceo Marconi, e poi abbiamo anche una dichiarazione di Roberto Lisotti, che è il preside del Liceo Classico Mamiani. Alla vigilia del suono della campanella, le previsioni nell'era del secondo anno scolastico, ai tempi del Covid, non sono affatto tra le più rose. C'è il nodo Green Pass per docenti e personale amministrativo. E non tutti hanno ancora la carta verde. Quanti? Con esattezza. Non si sa. Credo che siano un 10%, dice il preside Rossini, un 10% tra insegnanti e amministrativi a non essere vaccinati. E di questi la metà potrebbero anche essere no-vax. Comunque la scuola è pronta, lo dice Salta Martini, ma le regole si devono rispettare. Chi non è vaccinato rischia il licenziamento. E poi abbiamo anche un'intervista al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Marco Ugo Filisetti, a pochi giorni dal ritorno sui banchi. Ritorno che è fissato al 15 di settembre. Vediamo un attimo una risposta alla domanda di Marina Verdenelli, portata da Ugo Filippetti. La giornalista gli chiede se sarà un anno particolarmente difficile questo con i nuovi provvedimenti sanitari. Il dirigente risponde non ho segnali di istituti in difficoltà. Molte prescrizioni per l'inizio del nuovo anno sono le stesse che c'erano in quello precedente. Anzi, una addirittura è decaduta ed è quella del distanziamento tra i banchi all'interno delle classi. Contagi e ricoveri da allarme rosso. Il triplo di positivi rispetto al 2020. L'assessore Filippo Saltamartini afferma l'impennata dei dati. Mi fa preoccupare, non lo nascondo. I vaccini, io ho fiducia nella scienza, ma da politico devo parlare con tutti, compresi i negazionisti, quindi anche coloro che si definiscono Novax. Green Pass, vediamo anche che cosa i provvedimenti sul Covid influiscono sullo sport. Green Pass per i baby atleti, l'ira delle società, Sartini dei bis, dice qual è la differenza tra educazione fisica, scuola e l'allenamento con noi. Da una parte non ci vuole il Green Pass, dall'altra invece ci vuole. Un po' come i commercianti hanno evidenziato il rapporto tra la fiera, la fiera dove ci vuole il Green Pass, e il mercato dove il Green Pass non ci vuole. Insomma, sono delle differenziazioni di cui non si capisce bene il senso. E poi vediamo ora la strategia dell'assessore regionale Giorgia Latini. Teste salivare agli sportivi e più pubblico sugli spalti. Chiederemo al Ministero, ha detto, di riconoscere questi tamponi ai fini del certificato verde. Sarà il modello Marche. Ancora, trova mille euro e li restituisce. È un disoccupato. Qui abbiamo la fotografia. Il protagonista di questo caso è un 48enne di Villa Fastigi che ha riconsegnato il portafoglio al proprietario con dentro la cospicua somma di parecchi euro. Si tratta del titolare del bar Muraglia. E questo titolare è cosa ha fatto? Insomma, ha cercato di gratificare questa persona onesta chiedendo soprattutto di sapere chi fosse e quindi di cercare ad aiutarlo a trovare lavoro perché questo qui è un disoccupato. E ancora con la cronaca. Vediamo qui, faccia a faccia con il ladro gentiluomo. Si trova di fronte a uno sconosciuto che esce di casa e la saluta. Buongiorno, dice. Poi scopre che le ha rubato gioielli vari. È accaduto ieri a Pesaro. c'era una famigliola che stava pranzando tranquillamente a fianco al proprio appartamento un altro appartamento. Una signora si alza la tavola va nell'appartamento di fronte e si imbatte con un estraneo il quale invece di essere aggressivo che fa la saluta gentilmente dice buongiorno e va via. Poco dopo scopre che è stato rubato un gioiello, un braccialetto e altri gioielli. Il fatto è avvenuto nella strada della Valle a Ginestreto. Attenzione poi ai contratti telefonici. Il giornale di questa mattina il Carlino evidenzia un falso contratto vantaggioso sottoscritto con la Team da un procacciatore 24enne. Insomma, il contratto che è risultato all'azienda telefonica non era quello che aveva sottoscritto il cliente e quindi è stata fatta la denuncia ai carabinieri. Insomma, il 24enne che ha fatto questa truffa diciamo così non era la prima volta che la faceva così è stato riscontrato dalle forze dell'ordine. Un mare nero il genico ha portato di tutto una vergogna che non si riesce a risolvere. Sabina Cardinali della CNA interviene e in quel tratto dice ci sono diversi hotel montagne di immondizia alla foce tra i bagnanti che passeggiavano. E la foto è molto significativa. Questo è quanto il mare ha ributtato sulla spiaggia. Si tratta di tronchi ma anche di plastica di immondizia varia che è stata ammucchiata appunto alla foce del Genica. E poi vediamo ancora sulla pagina di Fano l'inizio dell'anno scolastico per Fano sarà una sorpresa specialmente per i ragazzi delle scuole elementari ufficiale la scuola di Cucurano Carrara sarà ok per settembre. Ultimi ritocchi al nuovo plesso che accoglierà 300 allunni delle elementari di Carrara e Cucurano. Qui vediamo l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin e qui la nuova scuola di Carrara Cucurano pronta per accogliere gli studenti. E poi ancora la dichiarazione dell'ex preside dell'ex dirigente scolastico Antonioni che chiede che i bambini vadano a scuola da soli e questo implica il problema di fare un percorso in sicurezza un percorso senza auto e incalza appunto il sindaco. Anche il resto del Carlino riporta l'incidente che è accaduto ieri intorno alle 13 a Caminate schianto frontale in auto muore a 48 anni e la supestite Claudio Isabettini dice per fortuna l'ho vista brutta ma sono rimasto vivo e questo è un risultato importantissimo ovviamente. la vittima è Massimo Pastore papà di un bimbo di 9 anni e poi abbiamo la testimonianza del ferito. Ancora per quanto riguarda la cronaca evade dai domiciliari scatta l'arresto si tratta di un 65enne che era uscito per riparare gli occhiali e poi ieri nei pressi del Codma va a fuoco un automezzo dell'Aset intervengono i vigili del fuoco e limitano i danni. Il canale era un passo dal prasciugamento le piogge providenziali hanno salvato in extremis a Fano il canale Albani e siamo ormai in conclusione solo due titoli di sport vediamo che per quanto riguarda la vis De Feo Stanco si tratta la vis firma astrologo l'altro titolo riguarda invece il Fano Calcio un cavillo burocratico tiene Giorgini a Fano insomma lui vorrebbe andarsene perché vuole restare in C ma le normative dicono che deve restare a Fano e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà come sempre appuntamento al notiziario delle ore 20 e 30 buona giornata buona giornata